Ok, allora. Allora, in queste due ore, che due ore è qualcosa, che ci mancano, parliamo di javascript, come vi dicevo, come linguaggio di programmazione e delle cose base, tutto sommato, di javascript. Quindi l'obiettivo di queste due ore, diciamo, sono quelle di imparare javascript come linguaggio. Quindi vedremo oggi le cose, tutto sommato, base di javascript. E in termini di semantica e di pattern di programmazione, aggiornato a una versione di javascript specifica, che è la ES6, quindi la versione del 2015. Perché javascript ha versioni che cambiano nel tempo. È versione che è supportata sia da, per programmazione su computer normali, o server side, per esempio, attraverso Node, ma anche nei browser, quando inizieremo a lavorare su quegli aspetti. Quindi oggi quello che cercheremo di fare è partire da, velocemente, che cos'è javascript, versioni, eccetera, struttura del linguaggio, tipi e variabili, strutture di controllo, cicli, if, quant'altro, array e stringhe. Giovedì vedremo funzioni, oggetti e faremo un esercizio su tutte queste cose anche che abbiamo visto oggi. Ricordatemi quanti di voi non hanno idea di che cosa sia javascript, non hanno mai usato javascript? Ok. Quindi questo è veramente cose base. Ovviamente che cos'è una variabile lo sapete tutti, sì? Bene. Così come cos'è un ciclo e quant'altro. Quindi cose, tutto sommato, di base e non particolarmente abbastanza standard. Non fatemi dire noiose, però un po'. Allora, cos'è javascript? Javascript è un linguaggio di programmazione che negli anni ha sempre più acquisito popolarità e utilizzo nel mondo degli sviluppatori. è uno dei tre linguaggi che un browser capisce nativamente e gli altri due sono, ovviamente, il PHP non lo capisce un browser? HTML e CSS. ed è l'unico linguaggio di programmazione che nativamente un browser capisce, gli altri due non sono classificati come linguaggi di programmazione e non solo viene, come vi dicevo, capito nativamente ed eseguito nativamente da un browser, basta installare il browser, ma appunto tramite node o programmi simili può anche essere eseguito su un computer. Giusto per chiarire, nonostante il nome dica javascript, non ha nulla a che fare con java, non è stato creato in quel modo solo per motivi di marketing, perché quando è nato java era molto popolare e quindi ci hanno agganciato javascript per giocare sulla popolarità, ma non ha assolutamente niente a che fare con java. e la prima versione di javascript è stata scritta in dieci giorni. Questo è una cosa da tenere a mente, perché questa fretta di scrivere la prima versione ha portato con sé tante cose caratteristiche particolari di javascript che tuttora ci sono. Quindi non è stato un linguaggio di programmazione progettato con particolare cura, attenzione e tempo, ma ha una serie di stranezze che ci portiamo dietro da quei dieci giorni che hanno speso per creare javascript come linguaggio di programmazione. Javascript, a differenza di altri linguaggi di programmazione che conoscete, python lo conoscete tutti? Sì? No? Sì. Mentre in python c'è un modo di fare le cose e alcuni modi accettabili di fare le cose, in javascript è più un liberi tutti. Lo sviluppatore ha piena responsabilità nel bene e nel male di quello che sta facendo e javascript lascia ampi margini di manovra per fare qualunque cosa in qualunque modo. quindi è molto flessibile da un certo punto di vista, può essere molto potente, ma va anche usato in un certo modo per evitare di fare cose che sarebbe meglio non fare. E javascript come linguaggio non forza particolarmente in una direzione o nell'altra. vabbè, javascript, velocissimamente, è nato nel 95 in questi dieci giorni, è nato per il web, a un certo punto è nato un ente di standardizzazione che si chiama ECMAScript, che tuttora esiste ed è la versione standard, il documento di standard di javascript come linguaggio di programmazione, e ogni qualche anno, come vedete qui, esce una versione nuova di ECMAScript ES numero. Quindi nel 2017 si era ES8, nel 2015 c'era ES6, eccetera. ES perché è ECMAScript, che è il nome ufficiale di javascript, è il nome standard di javascript. E in ES6 o in ES2015, che è la versione su cui ci orientiamo, è dove la maggior parte delle novità che rendono javascript un linguaggio un pochino più usabile da un punto di vista moderno, sono state introdotte. Come per esempio un nuovo modo di creare variabili, le classi, o meglio, un qualcosa che si chiama classe, e altri meccanismi. Poi dopo il 2015 ci sono state altre aggiunte, però in un certo senso minori rispetto a quello, rispetto a ECMAScript 2015, che è stato invece un notevole passo in avanti per molte cose. Ed ecco perché noi ci orientiamo a ECMAScript 2015. Un altro motivo è che, essendo questi standard che variano nel tempo, non tutti i sistemi, quindi non node e non i browser, non sempre sono allineati all'ultima versione disponibile dello standard. Perché un conto è un documento di standard, un conto è l'implementazione attuale di javascript, all'interno di tutti i browser. Quindi, anche se esiste un ECMAScript 2023, la maggior parte delle cose di ECMAScript 2023 non sono implementate nei browser, per esempio. Quindi i browser, node, implementano sempre qualche versione precedente di ECMAScript e pian piano aggiungono le funzionalità quando c'è bisogno, quando sono stabili, quando sono usate e utilizzabili. Però lo standard continua a progredire. C'è ovviamente, se volete, se non sapete come addormentarvi di sera, potete leggervi lo standard di javascript, se volete, che è scritto in maniera molto standard, quindi molto dettagliato, molto quasi in legalese per certi aspetti. noi useremo ovviamente l'implementazione di javascript che deriva da uno standard specifico. E javascript come funziona? Javascript, per essere eseguito, ha bisogno di un motore e ogni browser, come vedete, ha quasi ogni browser, come vedete, ha un motore javascript diverso. Quindi Chrome ed Edge e Node usano lo stesso motore che è V8, creato da Google. Firefox usa invece un motore diverso per javascript che si chiama spider monkey e Safari usa invece Apple script core. Quindi tre browser diversi o tre sistemi diversi usano tre implementazioni diverse del motore di javascript. Questo che conseguenza ha, secondo voi? Il developer deve essere in grado di soddisfare requisiti diversi? Un po' come un'applicazione tra i diversi sistemi operativi? Sì, e in maniera più pratica, pragmatica, cosa può comportare questo soddisfare requisiti diversi? Che se io faccio un'applicazione web che funziona perfettamente su Chrome e la voglio eseguire su Firefox, cosa potrebbe succedere? Che non funziona o che bisogna cambiare qualcosa. Quindi questi tre motori diversi sono disallineati per il supporto che ha una javascript e quindi Chrome è tipicamente quello più e quindi di conseguenza anche Edge e Node in un certo senso. Sono quelli un pochino più che implementano un pochino più frequentemente e velocemente lo standard. Gli altri due sono un pochino più lenti nell'implementare, aspettano che le cose diventino un pochino più stabili prima di inserirle. Molte cose, non in javascript e linguaggio, ma in javascript per il web, sperimentali sono per esempio inserite in Chrome e non in altri browser. Sperimentare vuol dire che a un certo punto magari potrebbe smettere di esistere quel metodo, quell'API, quella funzionalità. E Chrome li inizia già a implementare e gli altri aspettano che diventino un pochino più stabili. Quindi diversi engine portano a diversi supporto delle cose. Questo è anche perché noi cerchiamo di rimanere su ECMAScript 5, che essendo di qualche anno fa, è ormai totalmente supportato da tutti questi sistemi di engine. Questo standard versus implementation, se voi andate nella documentazione di Mozilla, così la prendete, potete vedere, per esempio prendiamo quella di javascript, se guardiamo, prendiamo un oggetto facile, gli array, in fondo alla pagina degli array, e questo vale per tutte le pagine nelle reference che ci sono sulla documentazione di Mozilla, vedete quella funzionalità, dove è implementata e da che versione del browser è implementata. Ora, gli array, che è la struttura dati base, è implementata dalla versione 1 di Chrome, dalla versione 12 di Edge, dalla versione 1 di Firefox, eccetera, e dalla versione 0.10 di Node, perché gli array sono una cosa abbastanza standard. Però potete vedere, per esempio, che funzionalità più avanzate, come questo doppia chiocciola species, che è una funzionalità degli array dello standard di javascript, è implementato da Chrome 51. Quindi, se voi state realizzando un qualcosa che usa questo species, e dovete realizzare un'applicazione che deve funzionare in Chrome 48, questa cosa non può essere utilizzata. E questo vale per tutti gli elementi di javascript, ovviamente le cose standard e base sono ormai supportate dappertutto, e vale anche, e vale soprattutto, per le API web, quindi per quelle funzionalità che vedremo in parte, che usano javascript, ma sono, ma sono relative solo, unicamente al mondo web. Quindi questa, per esempio, è una funzionalità relativa al trattamento dell'audio, microfono e casse, quindi audio, input ed output, e come vedete, quella funzionalità specifica che è sperimentale, è supportata solo da Firefox, sul desktop, e dalla versione 116 in poi. Nessun altro browser la supporta. quindi se voi fate un'applicazione web che utilizza quel metodo specifico per l'audio, lo provate su Firefox, tutto funziona, aprite Chrome, quella funzionalità smette di funzionare perché non è supportata. E non è supportata principalmente perché è sperimentale. Quindi, quando si lavora con javascript, specialmente nel browser, ma in generale, queste tabelle sono molto utili, soprattutto se sono funzionalità avanzate e non prettamente standard, perché aiutano a capire che cosa uno può fare oppure no. E questo c'è nella documentazione di Mozilla, ma c'è anche in Keneuse, che è un altro sito che fa esattamente quello che fa la documentazione di Mozilla. Per esempio, prendiamo questo, WebGL, vi fa vedere che WebGL è supportato dalla versione interamente, dalla versione 33 di Chrome, e anche sul mondo mobile, da che versione del browser è supportata. Quindi, per esempio, su Opera Mini non è ancora supportato. E su Android Browser è supportato solo dalla versione 122. E se ci sono delle note, per esempio, su Firefox, in questa versione, dalla 4.23, era supportato, ma non interamente, c'erano delle note. Quindi, tutte queste caratteristiche, sono caratteristiche che capitano frequentemente con javascript, e sono cose da tenere in considerazione, soprattutto per quegli aspetti un po' più avanzati o un po' più recenti del linguaggio. E ci sono siti come keneuse.com e la documentazione di Mozilla che aiutano a orientarsi, a capire se certe cose si possono utilizzare oppure no e da quale versione del browser si possono utilizzare oppure no. Perché noi, nel nostro caso, svilupperemo sul nostro computer e quindi proveremo sul nostro computer con browser aggiornati e recenti, però, se voi, nel mondo del lavoro, doveste fare un'applicazione che deve funzionare su Internet Explorer, per esempio, allora, certe cose non potete farle o potete farle solo in certo modo. E queste tabelle aiutano a capire non solo dal punto di vista dello sviluppatore, ma anche dal punto di vista di dove questo sito, questa applicazione sarà poi utilizzata. Ok? Compatibilità di JavaScript. Abbiamo detto che JavaScript è stato creato in dieci giorni, negli anni 90, e l'interistandarizzazione di JavaScript, ECMAScript, ha definito che JavaScript sarà sempre, almeno finché non cambia in idea, backward compatible. che cosa vuol dire? Vuol dire che una volta che una funzionalità è stata inserita nel linguaggio di programmazione, non ci saranno cambiamenti nel linguaggio che renderanno invalida quella funzionalità, anche se è una funzionalità che non sarebbe dovuta esistere in primo luogo. C'è ancora oggi nel linguaggio di programmazione. E JavaScript non è invece forward compatible di conseguenza. quindi nuove aggiunte a linguaggio di programmazione allo standard non funzioneranno, non è previsto che funzionino in sistemi più vecchi o potrebbero addirittura mandare in crash il programma. Quindi cose aggiunte in ECMAScript 6 se il browser o la versione di Node supporta solo ECMAScript 5 non funzionano per design. mentre le cose che sono state create in quei primi dieci giorni continuano a funzionare ancora oggi. Questa è la filosofia di JavaScript. Ora, dato che JavaScript è backward compatible ma alcune scelte fatte in passato sono oggi molto, rischiano oggi di essere pericolose o non funzionanti o creare problemi di sicurezza per esempio, a un certo punto hanno introdotto una modalità che è la modalità che noi useremo che è questo strict mode. Questo strict mode è una modalità che dice all'engine JavaScript di operare in questa modalità ristretta in questa modalità controllata che disabilita alcune operazioni molto vecchie che possono essere pericolose o possono rallentare la performance del programma in JavaScript. E questa è la prima cosa che faremo in ogni programma JavaScript che scriveremo e abilitare questa modalità e vedremo come si abilita. Dato che JavaScript non è forward compatible cosa succede se io volessi creare un'applicazione web o comunque un programma JavaScript oggi con tecnologie di oggi e volessi usarla su un browser di 5 anni fa? Questo nativamente non funziona ma dato che è un'esigenza nel mondo web sono state create librerie e meccanismi che sono quelli elencati in fondo alla slide il transpiling e il polyfilling che permettono di rendere funzionanti o attraverso librerie apposite o attraverso conversioni di codice dalla versione nuova a una versione vecchia e rendere funzionanti programmi JavaScript scritti oggi su browser o sistemi di 10 anni fa quindi trasformando la sintassi attuale in sintassi passata o aggiungendo librerie che riempiono i buchi lasciati dalle nuove versioni di JavaScript un altro strumento che se volete utilizzare per imparare JavaScript può essere carino è questo JavaScript Tutor che in realtà si arriva dal sito python tutor .com perché è nato per Python ma anche un interprete ECMAScript 6 che è la versione di nuovo che usiamo noi in cui potete scrivere codice JavaScript fatemi scrivere qualcosa più o meno a caso e visualizzare l'esecuzione riga per riga e in memoria quindi per esempio adesso noi non abbiamo ancora visto la sintassi ma che cosa sono queste due cose che abbiamo creato secondo voi due variabili e in particolare a che cosa ha al suo interno come valore un intero che è 5 no? l'altro che cosa sarà? un array e di conseguenza vedete in memoria come si comporta un valore intero associato a una variabile e un oggetto un array in questo caso associato alla variabile quindi con un puntatore che punta alla porzione di memoria che contiene il dato dell'array dell'oggetto e quant'altro esattamente come funzionerebbe per Python per esempio o per altri linguaggi quindi questo è un altro strumento potete anche vedere le cose passo passo e poi aiutare a capire alcuni comportamenti se necessario e come potete usare l'engine del browser se volete come potete usare l'engine del browser per programmare in javascript adesso andiamo sul sito questo qui se volessi scrivere un'istruzione in javascript senza andare a modificare il codice sorgente della pagina come posso fare? posso farlo? come posso farlo? con ispezione elemento su ispezione elemento si apre la console e nella console si può scrivere codice javascript quindi esattamente come prima let a uguale 5 crea una variabile a che contiene 5 e se faccio print che è console.log so che non si vede molto ma console.log di a mi stampa schermo 5 e di nuovo console.log è un metodo per stampare schermo quindi questo ci permette di scrivere per provare cose rapide e veloci direttamente nell'engine del browser in questo caso sfruttando l'engine di di chrome che è questa cosa qua ok fin qui struttura del linguaggio javascript è strutturato in file e ogni file è un programma javascript ogni file è caricato indipendentemente dall'altro e vari programmi javascript quindi vari file javascript possono comunicare o attraverso un meccanismo di stato globale tra i programmi javascript o attraverso il meccanismo dei moduli che vedremo fra un po' che permetterà quindi di importare ed esportare in maniera analoga ad altri linguaggi di programmazione una libreria un programma e renderlo disponibile a un altro file un altro programma come viene eseguito un file javascript un file javascript viene interpretato all'incirca e viene eseguito riga per riga in questo modo prima di tutto il file viene parsificato interamente vengono fatte eventuali ottimizzazioni o cambiamenti al codice per renderlo eseguibile e poi viene eseguito riga per riga dall'inizio alla fine e se c'è a un certo punto un errore che blocca l'esecuzione del programma ve ne accorgete quando arrivate alla riga che causa l'errore tenete però presente per un po' almeno che il file è interamente parsificato prima di venire eseguito quindi non viene immediatamente parsificato e eseguito riga per riga ma viene prima costruita una struttura ad albero che rappresenta l'intero file l'intero programma e dopo viene eseguito questo permette a javascript all'engine di fare alcune ottimizzazioni per esempio e javascript ha poi una library standard e ha poi alcune metodi che sono specifici dell'ambiente in cui vanno a funzionare per esempio in ojs c'è un metodo per aprire file su disco che nel browser non esiste perché nel browser non esiste? un metodo per aprire un file su disco direttamente e scriverci un file di testo il browser gira in una sandbox e non ha direttamente controllo sul disco sul disco è un ambiente protetto e quindi per accedere a un file su disco si passa dalla finestra di input seleziona file del sistema operativo mentre il node girando sul computer ha accesso direttamente al sistema operativo sottostante può aprire un file creare un file scriverci dentro chiuderlo cancellarlo con più agevolezza allo stesso modo ci sono API per il web che non funzionano in node che non esistono in node per esempio per il web c'è un API che permette di aprire la webcam del computer e recuperare un'immagine dalla webcam del computer nativamente disponibile nel browser questo non è disponibile in node perché è un ambiente di esecuzione diverso anche se hanno lo stesso engine sono ambienti di esecuzione diversi quindi le cose che si possono fare con Javits sono alcune cose che sono definite dal linguaggio le variabili gli array gli oggetti eccetera alcune cose che sono rese disponibili dall'engine e altre cose ancora che sono rese disponibili dall'ambiente di esecuzione quindi browser specifico versus node versus alta implementazione dell'engine che gira su un computer il linguaggio è però sempre lo stesso quindi si scrive codice allo stesso modo JavaScript è scritto in Unicode quindi vi permette se volete di mettere tutte le lettere accentate e i caratteri speciali che volete inclusi le emoticon quindi l'emoji è un carattere valido in JavaScript come in quell'esempio lì potete mettere un emoji dentro una variabile e poi stampare la variabile ogni riga di un file JavaScript termina quando va capo e il punto e virgola non sono obbligatori sono automaticamente inserite secondo delle regole specifiche e vi anticipo che noi le metteremo sempre i punti virgola perché anche se non sono obbligatori bisogna tenersi a mente le regole specifiche per essere sicuri che vengono inseriti nel posto giusto al momento giusto e quindi per semplicità noi inseriamo i punti virgola e non ci ricordiamo a memoria le regole specifiche JavaScript case sensitive i commenti si fanno come si fanno in C gli identificatori e i literal devono iniziare con una lettera con il segno del dollaro o con l'underscore non possono iniziare con nessun altro carattere ci sono come in tutti i linguaggi di programmazione alcune parole riservate per esempio const o for if eccetera e la sintassi è simile a quella del C punte virgola come vi dicevo JavaScript lo inserisce quando ne ha bisogno secondo queste regole però nel non ricordarsi le regole si può anche avere comportamenti non aspettati e noi in questo corso seguiremo non in maniera troppo stretta ma comunque seguiremo la guida di stile JavaScript di Google che è disponibile a quell'indirizzo e quindi inseriremo sempre i punti virgola alla fine di ogni statement anche per evitare di ricordarsi esattamente le regole e i casi particolari delle regole in cui invece ogni tanto è bene metterle ogni tanto possiamo ometterle quindi noi metteremo i punti virgola questo è un argomento di dibattito nella comunità di JavaScript io non ho opinioni a parere ma noi metteremo i punti virgola lo stesso per semplicità e praticità in questo caso strict mode lo strict mode che vi dicevo prima introdotto in ECMAScript 5 quindi versione 2014 serve a evitare comportamenti particolari o strani del linguaggio vecchi comportamenti del linguaggio si attiva mettendo nella prima riga del file JavaScript che volete che utilizzi lo strict mode una stringa quindi aperte virgolette use strict chiuse virgolette e quando un engine JavaScript che supporta lo script mode trova quella scritta trova quella stringa interpreta tutto il resto in modalità strict cosa capita se un engine JavaScript che non supporta lo strict mode trova quella stringa? la legge ma è una stringa quindi non sa cosa farsene e quindi semplicemente non succede niente è una stringa è come se avesse scritto ciao dice sì è una stringa non c'è nessuna variabile fine quindi è un comportamento di nuovo che non rompe le versioni precedenti di JavaScript perché è una stringa non fa nessun danno non è utile per le versioni precedenti ma per le versioni attuali attivano lo strict mode cosa fa lo strict mode sistema alcuni problemi nel linguaggio e aggiunge anche una maggiore trasparenza sugli errori e sul controllo degli errori per esempio elimina alcuni messaggi d'errori che sarebbero silenziosi e le rende espliciti così che possiate vedere che c'è un errore invece di vedere qualcosa che non funziona senza sapere perché rende anche il codice in alcuni casi più performante perché elimina alcuni elementi nella fase di parsing che non sono più strettamente necessari in versioni moderne di JavaScript e quindi lo stesso codice in strict mode e non in strict mode a volte è più performante in strict mode lo stesso identico codice proprio perché questa ottimizzazione in fase di parsing sono fatte in maniera diversa per non essere completamente backward compatible con la versione 0.1 di JavaScript del 95 e così via quindi noi useremo sempre strict mode a un certo punto questo è uno spoiler a un certo punto quando useremo React React sarà di default in strict mode quindi non ci sarà neanche bisogno di scriverlo ma sarà di React sarà di default in strict mode e funzionalità nuove di JavaScript alcune funzionalità nuove di JavaScript impongono lo strict mode automaticamente ma per ora che non abbiamo nessuna di queste prima cosa da scrivere in un file JavaScript è strict mode tra virgolette per abilitare lo strict mode su questo vado un po' veloci perché non sono cose particolarmente no? complicate ma se avete qualche dubbio fermatemi variabili e tipi le variabili non hanno un tipo in JavaScript ma il loro valore sì e JavaScript definisce due tipi di valori i tipi primitivi e i tipi oggetto e i tipi primitivi sono quelli riportati in questa slide quindi e sono quelli che penso potete più o meno aspettarvi stringhe numeri quindi non intero floating point numeri boolean quindi vero falso e poi due valori che vengono chiamati nullish in inglese non saprei come tradurlo in italiano quasi nulli che sono il valore null e il valore undefined e poi ci sono gli oggetti di cui oggi vedremo gli array e giovedì guarderemo anche le funzioni e gli oggetti definiti dagli utenti e definiti dal programmatore allora qualcosa di strano in questa slide non hanno tipi le variabili non hanno tipi i valori sono string numero boolean sono tutti tipi le stringhe si possono scrivere in tre modi diversi col doppio apice col singolo apice o col backtick sono entrambi i modi di fare stringhe i primi due sono un equivalente all'altro il terzo permette di fare quelli che si chiamano string literal che sono stringhe più potenzialmente più complesse in cui si può fare interpolazione per esempio di una variabile in maniera più agevole o si può andare a capo all'interno della stringa per esempio con i backtick mentre non è possibile in maniera così agevole con gli altri due tipi di stringa ma sono equivalente sceglietene una e soprattutto tra le prime due sceglietene una preferite le virgolette doppio o quelle singole e rimanete coerenti all'interno del programma a volte i backtick quindi gli string literal sono più comodi quindi si possono usare e sono stringhe tre tipi di stringhe numeri qualcosa di strano nella colonna numeri non c'è una differenza tra l'intero e floating sono numeri e il tipo numeri non importa se sia intero o no qualche cosa di strano sotto i boolean direi di no qualche cosa di strano sotto gli oggetti le funzioni sono oggetti questo lo scopriremo meglio giovedì ma le funzioni un altro spoiler sono oggetti e quindi si può fare tutto quello che si fa con un oggetto con una funzione incluso passarlo come parametro a un'altra funzione quindi abbiamo funzioni che passano funzioni che passano funzioni come parametri e questo è tutto lecito in javascript diciamo che a tranne i tipi primitivi tutto è un oggetto in javascript ok booleani i booleani sono vero falso true false ma quando si converte un valore in booleano ci sono alcune cose da tenere in mente quindi quando si converte esplicitamente o quando lo si converte in maniera implicita perché magari è un check se variabile uguale a vero e in javascript infatti non si parla di vero falso si chiama si parla di trufi and falsi quindi quasi vero quasi falso per cui vero è vero è falso è falso ma poi ci sono una serie di valori che sono falsi o quasi falsi quindi lo 0 è falso il meno 0 che in javascript esiste è falso pure lui e n a n sapete cos'è n a n? not a number è falso ed è un numero ma questo è un altro è di tipo numero anche se si chiama not a number undefined è falso nulla è falso e la stringa vuota è falso quindi tutti questi quando convertiti in un boolean implicitamente esplicitamente danno falso ogni altro valore invece è vero quindi 3 una stringa piena un array vuoto un oggetto vuoto una stringa con dentro uno spazio qualunque altra cosa è vero e in javascript ci sono due modi per fare i confronti di eguaglianza uno col doppio uguale e uno col triplo uguale il triplo uguale fa il confronto dei valori così come sono quindi è quello che negli altri linguaggi di programmazione fate col doppio uguale praticamente quindi uno triplo uguale uno darà uno triplo uguale uno darà vero uno triplo uguale uno scritto come numero ma all'interno di una stringa darà falso col doppio uguale invece si attiva una conversione dei valori prima di fare il confronto quindi uno doppio uguale uno come stringa quindi uno numero all'interno di una stringa col doppio uguale darà vero perché uno viene l'uno stringa viene convertito in numero e uno è uguale a uno numero quindi viene fatta la conversione quindi se volete una uguaglianza come negli altri linguaggi di programmazione quindi senza questa conversione automatica usate il triplo uguale il doppio uguale a questa conversione in più e vabbè numeri non c'è differenza tra interi e reali e si fa conversione automatica in base all'operatore quando sommate un intero e un numero con la virgola viene trasformato i risultati e il numero con la virgola valori speciali undefined null come vi dicevo undefined null e null è un valore vuoto per una certa variabile undefined è invece che indica è comunque un valore di tipo null ma indica che il valore a quel momento non è vuoto ma non so ancora che cosa vado a metterci quindi non è ancora definito quindi è dichiarato ma non è inizializzato quindi è sempre nella famiglia dei null ma mentre null dice qui non c'è un valore undefined dovrebbe dare l'informazione semantica che il valore c'è ma non abbiamo ancora deciso quale sarà e sono entrambi chiamati nullish value perché ovviamente la differenza tra i due è semantica esistono nel linguaggio ma hanno solo una distinzione semantica nan come avete letto correttamente sta per nota number però è di tipo numero ed è il risultato di operazioni aritmetiche o di parsing che non sono andate a buon fine quindi quando il risultato di un'operazione numerica non è un numero javascript tipicamente restituisce nota number variabili però fatemele raccontare qua le variabili fatemi aprire viso studio code e fatemi aprire questa cartella che poi metto su git e fatemi aumentare un po' lo zoom e fatemi creare una variabili spunto javascript ok vedete là in fondo meglio? come no? peggio? sì? ok sarà divertente prima cosa in un file javascript use strict per attivare il la modalità lo strict mode in javascript le variabili si possono dichiarare in quattro modi diversi di cui uno non funziona nello strict mode e un altro non lo useremo perché ha più problemi che altro quindi ne avanzano due quali sono questi quattro modi? chi li sa? let l'abbiamo già visto prima let a uguale 5 poi const b uguale 6 var c uguale 2 e l'ultimo che non funziona in strict mode quindi in realtà non non potremmo usarlo se vogliamo e direttamente senza nessuna parola chiave davanti questo non funziona in strict mode quindi in strict mode questo non funziona proprio e abbiamo tre tipi di variabile var è la più è quella nata prima let e const sono state aggiunti in ECMAScript 6 quindi sono più moderni di var var è una variabile di qualunque tipo si può ridefinire ridichiarare eccetera ok? quindi io posso scrivere c uguale 7 nella riga dopo e non cambia niente ed è lecito come operazione posso scrivere A uguale 7? secondo voi? sì let è un tipo di variabile che si può riassegnare posso scrivere B uguale 7? no const invece non si può riassegnare per i tipi primitivi ok? quindi let posso non posso ridichiararla quindi non posso riscrivere let uguale A a un certo punto perché la variabile A è stata già creata ma posso riassegnargli il valore in un qualunque momento successivo alla creazione const non posso ridichiararla una volta che l'ho creata una variabile di tipo che si chiama B const rimane per sempre all'interno del programma e non posso ridichiararla non posso cambiargli il suo valore se c'è un numero rimarrà quel numero var posso ridichiararla e riassegnarla vi dicevo posso però fare così con const chi dice sì chi dice no proviamo fatemi stampare console.log e fatemi aprire un terminale che adesso non si vedrà più niente e fatemi scrivere node variables i nove avevano ragione non si può fare un assignment a una variabile costante posso in una variabile costante andare a modificare il contenuto di quella variabile se è un array questo sì non andando a riassegnargli un'altra cosa ma andando a dire B. aggiungi 1 aggiungi 2 quindi modificando il valore dentro l'array però non posso riassegnarlo a una variabile costante ok questo secondo voi è lecito e funziona perché no? perché C l'ho creata dopo quindi non posso stamparla prima di averla creata in teoria in pratica funziona console.log dc da undefined questo usare una cosa prima di dichiararla è una cosa possibile solo con var non funziona con let non funziona con cost e si chiama hoisting questo meccanismo H O I S T I N G hoisting che significa ricordate prima vi ho detto che java scritto quando esegui il programma prima fa il parsing del programma allora nel caso di var nel fare il parsing se trova una variabile di tipo var che è utilizzata prima di venire dichiarata la solleva la anticipa la definizione la creazione della variabile al punto in cui questa variabile deve essere utilizzata per la prima volta quindi solleva anticipa la creazione della variabile C a riga come se avessimo scritto var C qui e C uguale a 2 a riga 7 quindi questo è quello che fa l'hoisting anticipa la creazione della variabile e questo funziona solo di nuovo con var non funziona con let e non funziona con cost motivo per cui oggigiorno le due modi di creare variabili che sono più accettati e utilizzati sono let e const perché permettono allo sviluppatore di avere più controllo e più sicurezza in un certo senso di quello che fanno evitando comportamenti di questo tipo tipo che posso utilizzare una variabile anche se non l'ho ancora definita e quindi non vedere errore ma semplicemente vedere undefined allora in tre righe è evidente dove sia il problema se il programma è molto più lungo può essere più difficoltoso vedere dove è il problema e quindi var in pratica non viene quasi più utilizzato viene utilizzato let const al suo posto non c'è un'utilità particolare e che quando hanno creato var l'hanno creato in questo modo semplicemente l'hanno creata che ci sono molte cose che fanno hosting in javascript e non solo var puoi anche usare una funzione prima di definirla però non ti dà errore no? ti dice funziono invece in altri linguaggi di programmazione ti darebbe errore ti direbbe la variabile c non è stata definita che è quel comportamento che fa let const quindi quattro modi di dichiarare variabili uno non funziona con lo strict mode uno è var che è meglio non usare e quindi avanzano con let const let per avere variabili cui vogliamo cambiare il contenuto const per avere qualcosa che è più simile a una costante perché con valori primitivi non possiamo cambiare il valore con valori di tipo oggetto possiamo andare a modificare l'oggetto l'array all'interno di quella costante quindi se dobbiamo fare variabili let e const sono questo si chiama hoisting ed è possibile per var ok e questo è quello che c'è anche nelle slide essenzialmente quindi questa tabella vi racconta queste cose che abbiamo appena visto quindi let let può essere riassegnato ma non può essere dichiarato const non può essere riassegnato ma si può cambiare il valore dell'oggetto dell'array che lo contiene e non può essere dichiarato var può essere riassegnato e anche ridichiarato quindi var variabile 1 e dopo 50 righe riscrivere var variabile 1 e quella variabile 1 la seconda rimpiazza la prima da quel punto in poi non può essere riassegnato e però evitato in strict mode collegato con le variabili c'è il concetto di scope che per let e const funziona nello stesso modo e per var ovviamente funziona in maniera diversa per let e const cos'è lo scope lo scope è questo perché questo righe di codice ci dà errore perché non posso ridichiararlo ma perché non posso ridichiararlo perché sono nello stesso nello stesso scope sono nello stesso programma no? e sono entrando nello stesso scope questo è lo scope globale del lo stesso scopo globale del file in cui può esistere una sola variabile let che si chiama a se io creo un nuovo scope e questo è un modo per creare un nuovo scope quindi mettere del codice tra parentesi graffe io posso a quel punto creare un'altra volta let a uguale 5 anche se a era 1 questo perché? perché questa variabile a esiste solo all'interno di questo scope e appena lo scope è finito ritorna a valere la variabile a definita in precedenza quindi const e let valgono solo nello scope in cui esistono che sia quello globale o che sia quello specifico var invece è e più di nuovo varia in base alle scope quindi posso usarle sia nello scope globale nello scope locale di un blocco questo è un modo di creare uno scope un altro modo che potete venire a mente in cui è creato uno scope in un linguaggio di programmazione è per esempio quando definite una una funzione definendo una funzione generate uno scope per quella funzione e quindi ovviamente potete anche chiamarle variabili con lo stesso nome e qui c'è l'esempio dell'hoisting che abbiamo fatto prima ma con lo scope ok espressioni in javascript ci sono tutti gli operatori che potete immaginare operatori di assignment di confronto di operatori aritmetici bitwise logici eccetera da quel punto di vista è un linguaggio completo l'assignment si fa con l'uguale come abbiamo visto esiste anche il più uguale il meno uguale il per uguale il diviso uguale come per esempio in c gli operatori di confronto abbiamo già visto lo strict equal quindi col triple uguale e l'uguale col doppio uguale esiste anche il non uguale con un solo uguale e il non uguale stretto quindi senza il confronto senza la conversione da un tipo all'altro e poi esistono gli altri operatori maggiore minore maggiore uguale minore uguale che eseguono tutti dei cambi di tipo quando c'è necessario non esiste il minore uguale stretto non esiste il minore stretto ma esiste solo la versione normale quindi se confrontate una stringa con un numero lui farà la conversione di uno nell'altro e poi eseguirà il minore o il maggiore o il maggiore uguale lo stretto eguaglianza quindi quella con il triplo uguale esiste solo per la stretta eguaglianza e per la stretta diseguaglianza quindi col punto esclamativo in fronte tutti gli altri fanno la conversione che conversione fanno quando sono oggetti semplici l'abbiamo visti quando sono oggetti o array si confronta la reference all'oggetto con l'uguaglianza sia stretta che doppia che non stretta e gli oggetti sono uguali solo quando sono lo stesso identico oggetto quindi lo stesso oggetto lo stesso oggetto A ed è diverso negli altri casi e come vi dicevo gli altri confronti convertono l'oggetto in qualcosa un numero una stringa secondo queste regole qua quindi se confrontate una stringa fate un numero più una stringa questi vengono convertiti in stringhe se fate una stringa meno un numero questo viene convertito in numero la stringa viene convertita in numero se possibile ovviamente quindi ciao meno 5 da errore ma la stringa 8 meno 5 il numero da 3 ok e allo stesso modo 5 più stringa 10 da non da 15 5 più stringa 10 5 1 0 510 in stringa perché quando c'è una stringa un numero e c'è il più che è un operatore anche di concatenazione per stringhe diventa stringa se possibile quando invece c'è stringa meno numero per esempio qua ci sono altri casi dato che il meno si applica solo ai numeri prova a convertire la stringa in numero e come potete capire l'uguaglianza non stretta si usa rarissimamente per evitare questi problemi qui la maggior parte delle volte si usa l'uguaglianza stretta o la disuguaglianza stretta in modo di evitare queste conversioni che sono da teneramente perché ogni tanto un numero diventa una stringa ogni tanto la stringa diventa un numero e se faccio una stringa minore di un numero lui prova a convertirle e se non riesce ad errore quindi molto attenzione quando si usano le uguaglianze e i confronti e anche quali sono i valori delle variabili che restituite in quel momento specifico a quella a quella funzione a quel confronto perché javascript di default fa le conversioni in questo modo sì quando sono oggetti non quando sono dimostri quando è un array o un oggetto oggetto se non quando 1 è uguale a 1 perché a uguale a b entrambi contengono 1 allora quello è vero ok niente ok poi operatori logici doppio uguale or not funzionano secondo la logica booleana normalmente operatori matematici il più è un'addizione ma è anche concatenazione di stringhe quindi ho due stringhe le concateno con un più posso decrementare col meno meno posso incrementare col più più c'è la divisione c'è la moltiplicazione c'è il resto la sottrazione tutti gli operatori matematici che potete immaginare niente di strano e si scrivono esattamente come le scrivereste in c per esempio e e anche gli operatori logici sono allo stesso modo e c'è anche un idioma che è tipicamente utile che si usa abbastanza spesso che è variabile or altra variabile questo vuol dire se la variabile a è vero allora è trufi allora si va avanti con a altrimenti variabile b quindi e se a è vero restituisco a altrimenti il default è l'altra variabile questo è è un idioma che spesso si usa per indicare se qualcosa allora quel qualcosa oppure qualcos'altro in una riga sola e poi c'è anche l'operatore ternario c punto di domanda variabile punto di domanda altra variabile due punti qualcos'altro che funziona esattamente come l'operatore ternario in altri linguaggi di programmazione stessa cosa funzioni matematiche tutte le funzioni matematiche potete immaginare seno coseno esponente logaritmo costanti come il pi greco eccetera tutto è a disposizione nel direttamente nel linguaggio non c'è niente da importare non c'è niente da da installare eccetera è a disposizione di javascript e strutture di controllo sono le strutture di controllo scritte in maniera molto simile a quelle che scrivereste in c per esempio quindi if condizione aperta graffa statement chiusa graffa se volete c'è l'else c'è l'else if scritto else if esattamente come in c con un'altra condizione e c'è anche lo switch che è sempre strutturato come switch e case con la caratteristica che l'espressione dello switch può anche essere una stringa quindi si può iterare su uno switch di tipo stringa e i statement di loop la versione base è esattamente quella che sapete dal c for espressione iniziale punti virgola condizione punti virgola cosa fare per incrementare o decrementare l'espressione quindi for i uguale a 0 for let i uguale a 0 i minore di 5 i più più e esiste anche il while e il do while sintassi c identica e esiste anche il break e il continue che funzionano esattamente come per altri linguaggi di programmazione e si scrivono nello stesso modo niente di particolare javascript però ha altri due tipi di statement per i loop una che vale per gli oggetti e una che si può usare per gli array o per comunque tutte le cose che sono iterabili come gli array quindi quando si vuole ciclare in un oggetto si può usare il metodo di prima for i uguale a 0 i minore di i più più oppure si può anche scrivere for variabile in oggetto e questo cicla sulle proprietà dell'oggetto come in quell'esempio for let a in oggetto x uguale a 0 e y uguale a 3 quindi oggetto tipo dizionario e questo stampa x che è la chiave e y alla seconda volta che è l'altra chiave for variabile in oggetto per navigare sugli oggetti per navigare sugli array e per le strutture che sono iterabili for variabile of oggetto iterabile quindi for let a of array composto da 4 e 7 stampa il valore dell'array e quindi stampa una volta 4 e una volta 7 e per esempio nelle stringhe dato che la stringhe è iterabile for let a of la stringa high console log della variabile stampa una volta h e una volta la i itera ogni elemento dell'array o della cosa che è iterabile ricordate la differenza oggetto for in array o comunque qualcosa di iterabile come un array for off e poi il comportamento è analogo ci sono poi altri metodi di iterazioni che sono funzionali come il for each ma dedicheremo una lezione apposita ai metodi funzionali e ci sono anche ovviamente le eccezioni e la possibilità di gestire le eccezioni col try catch e col throw di eccezioni e ci sono vari tipi di eccezioni definite l'eccezione standard generica si chiama error e poi ci sono altri tipi come syntax error type error eccetera in base al bisogno con un loro messaggio all'interno che specifica qual è l'errore in maniera analoga a quella che abbiamo visto prima quando abbiamo provato a ridichiarare la variabile const ha lanciato un expression error ok fin qui sintassi più o meno solita qualche cosa in più da tenere a mente quindi for in per gli oggetti for off per gli array le cose iterabili e poi ci sono le variabili let eccetera l'if funziona come un if al netto del vero falso che ha quelle caratteristiche di cui dicevamo prima e il passaggio la conversione tra un tipo e un altro ultime due cose e poi interrompiamo qualunque ora sia sperando che sia in anticipo rispetto all'undici e mezza array e string niente di particolare di nuovo anche in questo caso array si dichiarano con le parentesi quadre hanno una proprietà che è la lunghezza che dice la lunghezza dell'array che si scrive punto length notate che è una proprietà non ha le parentesi tonde è una proprietà non è un metodo non è una funzione è una proprietà non ha le parentesi tonde in un array gli elementi possono essere di tipo a piacere potete avere un array con il primo elemento un numero la seconda una stringa il terzo un altro array il quarto un oggetto possono essere molteplici tipi e hanno due tipi di metodi che si applica sugli array javascript che sono metodi tipo il sort o la concatenazione di array quant'altro che hanno però una caratteristica particolare che o è da tenere a mente o è da controllare sulla documentazione alcuni di questi metodi cambiano l'array in place quindi rimpiazzano il contenuto attuale dell'array altri metodi invece creano una copia e cambiano la copia e quindi l'array originale rimane intatto quindi come si crea un array in modo più facile corre parentesi quadre modo un po' meno facile scrivendo array punto off qualcosa e lui prende questo qualcosa e lo converte in un array e gli array partono da 0 e finiscono alla lunghezza dell'array meno 1 e quindi hanno un indice e si può accedere come nome dell'array parentesi quadra 1 accedete al secondo elemento dell'array niente di strano quando aggiungete un elemento la sua lunghezza si la lunghezza dell'array si aggiusta automaticamente push aggiunge è un metodo per aggiungere qualcosa alla fine dell'array e unshift è un metodo invece per aggiungere cose all'inizio dell'array se no potete manipolare l'array con nome dell'array numero uguale come in questo esempio qua e c'è il duale di push e unshift che sono pop e unshift quindi push aggiunge in coda l'array e pop rimuove dalla coda dell'array unshift aggiunge all'inizio dell'array e shift rimuove dall'inizio dell'array e quindi scala la lunghezza di conseguenza e questi quattro metodi push pop shift and shift lavorano in place quindi modificano l'array attuale copia d'array è questo un modo corretto di copiare un array no che è l'unica risposta giusta che ci poteva essere non chiedo chi pensava sì questo non è una copia ma è una assegnazione un assignment assegniamo l'array v a un altro array che si chiama alias ma non è una copia e qui vi fa vedere perché non è una copia perché ovviamente copia solo il puntatore ma non copia l'array vero e proprio se volete creare un array una copia di un array un modo per farlo e ci sono n modi per farlo un modo per farlo è quello di usare array.from array.from crea un array a partire da un altro un altro oggetto che se è un array è facile ma può anche essere un qualcosa che non è un array quindi geno un array da un qualcosa da un altro tipo di oggetto incluso gli array e questo array from fa una copia debole una copia shallow non una copia profonda che vuol dire che cos'è una copia shallow? questo è indipendente dal linguaggio di programmazione se le modifiche sulla copia shallow non sono copiate ad un'ordinario? no le modifiche su una copia sono rimaste su una copia è proprio è una proprietà della copia shallow oppure profonda una copia debole una copia profonda no questo è indipendente dal linguaggio di programmazione c'è anche in python in java esistono le copie shallow e le copie non shallow se qui dentro ci fosse un altro array esatto se qui dentro ci fosse un array la copia debole farebbe così quindi andando a modificare l'array secondario quello varrebbe modificato per entrambi gli array quello originale e quello copiato quindi questa è una copia debole una copia profonda copierebbe anche eventuali oggetti all'interno dell'oggetto quindi eventuali array all'interno dell'array e così via quindi array.from fa una copia shallow non fa una copia profonda e come si intera sull'array l'abbiamo già letto for off o c'è l'altro for metodi sugli array metodi sugli array ce ne sono tantissimi che qui non sono riportati questi sono solo i principali di nuovo la documentazione di mozilla quella che abbiamo visto prima li elenca tutti con il loro esempio e la loro signature questi sono i metodi principali che sono quelli un pochino più utilizzati concat cosa farà concat? unisce con catena due array e ritorna un nuovo array quindi due array originali non vengono modificati join join unisce tutti gli elementi di un array secondo un delimitatore specifico in una stringa quindi prendo l'array e delimito gli elementi dell'array con una virgola con un punte virgola con uno spazio e li metto in un'unica stringa slice estrae una sezione dell'array a vostra scelta un pezzo da 1 a 5 su un array lungo 20 o da 5 a 7 e quel pezzo viene estratto e messo in un nuovo array quindi slice crea un nuovo array con un pezzettino dell'array esistente splice rimuove gli elementi da un array e eventualmente li rimpiazza ma di default li rimuove e poi puoi anche rimpiazzarli con qualcosa e questo non lavora su una copia ma lavora sull'array stesso quindi con splice potete dire voglio eliminare l'elemento 5 e 6 di un array di 10 e rimpiazzare quei due elementi con qualcos'altro tutto questo con solo splice e lo fa in place reverse fa il reverse dell'array in place quindi se avete bisogno dell'array originale dovete copiarlo prima sort ordina sempre in place index of restituisce l'indice della prima istanza di un qualcosa all'interno dell'array last index of stessa cosa ma è l'ultima istanza di un qualcosa nell'array e includes cerca per un valore all'interno dell'array e se lo trova restituisce true se non lo trova restituisce false non importa in che posizione sia questo valore e di nuovo alcuni di questi agiscono in place altri agiscono invece su una copia dell'array con gli array si può anche fare una distrutturazione degli assignment qual è il risultato di questa operazione secondo voi cosa c'è dentro x alla riga dopo 1 e dentro y ci sarà 2 quindi in un'eca riga possiamo spostare o anche invertire un array in un modo o in un altro e cosa fa questa riga queste due righe invece la prima crea un array con le stringhe 1 2 3 e l'array si chiama fo e la riga dopo scompatta il valore stringa 1 il valore stringa 2 il valore stringa 3 in tre variabili 1 2 3 che poi possono essere utilizzate in maniera indipendente all'interno del codice questo è utile quando avete un array che ha tanti oggetti volete prendere alcuni pezzi per usarli indipendentemente dall'array o anche quando per tornare elementi da una funzione una funzione restituisce un array e poi avete bisogno solo alcuni elementi di quella funzione che vengono ritornati e non tutti e quindi andate a recuperare le variabili specifiche che vi servono quindi questo scompatta in un certo senso l'array in variabili separate con questa sintassi che quindi in questo caso non in questo caso qui non identifica la creazione di un array ma identifica la creazione di due variabili in questo caso di sopra ovviamente c'è anche un operatore che troveremo spesso che si chiama l'operatore di spread che si usa con gli array e si usa anche con gli oggetti ma rimaniamo con gli array che è un operatore che identifica tre punti cosa fa questo operatore questo operatore permette di inserire molteplici valori in un unico spazio quindi vediamolo come esempi in questo caso il risultato di questa riga è che x avrà dentro uno e y avrà dentro un array con due tre quattro quindi tutto quello che c'è nel quindi x prende il primo valore esattamente come in questo caso di strutturazione e l'operatore di spread applicato a un'altra variabile prende tutto il resto dell'array al suo interno cosa fa invece in quest'altro caso in quest'altro caso l'irix è un array che ha dentro head poi c'è l'operatore di spread per un altro array e poi c'è hand e c'è toes cosa fa questo operatore di spread questo operatore di spread prende l'intero array shoulder e knee che è l'array parts e lo di nuovo scompatta all'interno dell'array quindi l'array lyrics se noi lo stampiamo avrà al suo interno head shoulder knees che sono presi dall'array part come elementi dell'array non come un ulteriore array and toes quindi prende gli elementi all'interno dell'array e li mette tolti dall'array in un'altra posizione questo si chiama operatore di spread e sono tre punti prima di una variabile l'operatore di spread viene anche usato per fare una copia di un array dato che lo spread prende valore di un array e li metto e li scompatto al di fuori dell'array se io questo lo metto all'interno di un array della definizione del nome array creerò una copia dell'array originale e questo è un idioma frequente in javascript in cui ho un array a e tramite l'operatore di spread creo una shallow copy di quell'array in un'altra variabile l'equivalente di array from che abbiamo visto prima string sì posso fare b di 1 uguale 3 sì string string non hanno cose particolarmente strane se non per lo string literal che abbiamo accennato prima le string sono immutabili in javascript quindi una volta create non si possono modificare la lunghezza di una stringa è il numero di caratteri che contiene come in altri linguaggi di programmazione di un certo livello di un certo livello di astrazione le stringhe come gli array usano come indice 0 e si può accedere ad un carattere specifico e le stringhe si possono come abbiamo detto prima definire con l'apice singolo con l'apice doppio e sono equivalenti tranne in caso in cui abbiamo magari all'interno un'apice singolo oppure abbiamo degli apici doppi all'interno della stringa e quindi dobbiamo gestirlo in maniera appropriata dato che le stringhe sono immutabili a differenza degli array che sono invece mutabili tutte le operazioni sulle stringhe restituiscono una nuova stringa le stringhe non si possono modificare ergo ne ho bisogno una nuova posso concatenare stringhe e restituisco una nuova stringa concatenata posso accedere ad un elemento di una stringa e posso vedere la lunghezza con la proprietà length esattamente la stessa proprietà degli array e quindi essendo una proprietà non ha di nuovo le parentesi tonde perché non è un metodo ma è una proprietà metodi sulle stringhe index of start with substring to lowercase to uppercase repeat trim tutti i metodi che potete di nuovo probabilmente immaginare concat includes in parte i metodi dell'array e in parte metodi propri delle stringhe tipo rendi tutto maiuscolo rendi tutto minuscolo e tutti restituiscono una nuova stringa una caratteristica se usate nelle stringhe qualcosa di particolare tipo l'emoji anche se sono lecite ci sono alcuni metodi che non funzionano bene con tutti i tipi di caratteri unicode e quindi nelle stringhe se dovete applicare dei metodi usate lettere e numeri principalmente e poi ci sono i template literal i template literal sono stringhe che vengono incluse in questi backtick e che permettono invece di avere due stringhe una concatenata all'altra con il più quindi tipo stringa ciao più variabile nome che è una concatenazione tra stringhe ok quindi questo si può fare come concatenazione di stringhe metto una stringa dopo l'altra dove nome è una variabile di tipo stringa se no cercherà di convertire ciao se no cercherà di convertirle in numero no se no cercherà di convertirle in stringa in ogni caso nome quindi verrà ciao qualunque altra roba e gli stringhe i template literal che sono identificati in questi backtick sono stringhe un pochino più potenti come tipo di stringa quindi possono per esempio andare a capo quindi voi potete aprire uno stringhe un template literal scrivere qualcosa premere invio e andare a capo a scrivere e quello è ancora all'interno della stringa e questa capo viene portato all'interno della stringa e poi permette anche di fare interpolazione di variabili all'interno della stringa e questo è possibile farlo solo col template literal attraverso questo identificativo dollaro parentesi graffa variabile o espressione chiusa parentesi graffa questo permette di fare per esempio ciao più nome uno può scrivere ciao dollaro aperta graffa variabile che contiene il nome chiusa graffa chiusa backtick e questo compone una stringa interpolando la stringa originaria con la variabile al suo interno convertita in stringa tutte le volte quindi questo deve essere un qualcosa che può essere convertito in stringa o che comunque viene convertito in stringa e inserito all'interno e questa è interpolazione è molto comoda l'interpolazione quando dovete inserire cose all'interno di stringhe in varie posizioni della stringa quindi invece di scrivere ciao più nome più un'altra parola o altre due parole poi un altro più e un'altra variabile qui si può scrivere un'unica stringa e andare a interpolare la variabile le variabili che servono nel posto giusto quindi questo è molto comodo e molto più veloce da fare rispetto a una serie di più che mettono insieme variabili e stringhe insieme in più i template literal possono anche andare avanti su più linee quindi se uno servisse ad andare a capo eccetera può farlo una stringa un paragrafo di testo si può fare con un template literal ok questo chiude i basics come vi dicevo molto è simile a quello che già sapete qualcosa di diverso giovedì in aula R2 facciamo tre ore di lezione e partiamo con un esercizio su tutto quello che abbiamo visto oggi prima di proseguire su oggetti e funzioni se avete domande io sono ancora qui per dieci minuti altrimenti buona giornata e ci vediamo giovedì grazie a tutti grazie a tutti